Sex Solution Forum si svolgerà nei prossimi giorni nella nostra regione, se ne è parlato oggi in Camera di Commercio Pescara Chieti, vogliamo spiegare che cos'è innanzitutto? Molto semplicemente, è un forum che si occupa di sicurezza. L'argomento principale che vogliamo trattare è il tema della convergenza, questo grande cambiamento che sta coinvolgendo il comparto della sicurezza, ma soprattutto vogliamo far capire agli impiantisti, quindi agli installatori, siano essi elettrici o di sicurezza, che quello che loro intercettano magari in questo momento come una crisi, in realtà non è crisi ma un grande cambiamento epocale che deve essere intercettato se vogliamo trasformarlo in successo. Il mercato della sicurezza è un mercato resiliente alla crisi, quello come dicevo prima che gli operatori intercettano come un momento di crisi è un cambiamento epocale che va cavalcato. Durante le giornate parleremo appunto di quali sono i mercati che non devono essere intercettati perché non ci sono più, quindi cercheremo di dare uno strumento anche di lavoro e di conoscenza agli addetti ai lavori su come questo mercato sta cambiando e dove devi andare per fare business.